Allora, benvenuti alla puntata numero 13 della nuova serie di Left 4 Dead, nuova no però alla solita serie, nuova perché c'è Giulia che è una merda e si è scoperto da poco, ecco perché è nuova, e chi ha visto l'ultima puntata lo saprà, e abbiamo detto dalle ultime due puntate che Francesco ci recita le poesie, che sia pronto o meno fra l'altro, Francesco la poesia presto. Ok, poesia serale di un giovane che in silenziosa contemplazione dell'ultimo treno che si allontana, si strugge e si dispera. Oh, cazzo, l'ultimo treno! L'ermetismo di Fra, veramente, è unico nel suo genere. Io so che fra ti è. Scusatelo un attimo, pausa telefono, aspetta, ma. Ah, ok, rieccomi, è finita la pausa e la chiamata. No, mettete mi piace per la mia amica Erez. Oh, non mettete troppi mi piace sulla mia fidanzata, spacco il culo a tutti, scemini, cazzo. Ma smegli, era un alterone. Scemi, non ho guardato la mia fidanzata, scemi. Ma che se siamo tutti incuneati nel primo buco? Ma che cazzo è? Sento qualcuno che c'è l'altro. Ah! Ah, beh, interessante. Bene. Questa mitraglietta fa schifo comunque. Ma tu perché continui a prendere la mitraglietta a chimica? Ehm, non lo so, perché quel fuscino mi faceva cagare, sinceramente. C'è uno spitter lì sotto. Sì, sì, l'ho visto. Cioè, ho visto un cazzo, perché no, non lo vedo più. C'è un jockey, c'è un jockey, vaffanculo, c'è un jockey, vaffanculo. Senta delle merda i violi. Ma sono qua, sono qua, sono qua. Non è vero, sei là sotto. Nella mitraglietta di merda. Cazzo. Faccio una padella. Molto utile una padella di una survival zombie. Una cotonetta di zombie. So tasty, so good. Perché c'è lo zombie che si è nascosto? Ditemi che ci sono fucili, vi prego. No. Ma c'era all'inizio il fucile, perché non l'hai preso? Ma perché era appunto quel fucile da... Adesso padello tutti, via. Via. In panna, miandre. No, spappola le teste la padella, guarda qua. Ma hai provato a prendere una padella a te in faccia nella tua vita? Secondo me fa male, eh. Ma che cazzo... Perché c'è un'orda qui in mezzo alle campagne del Nebraska? Ma che parte, eh? Fra, hai uno zombie che ti corre dietro? Ti fermi? Ah, ok, posto. Quei due tornano indietro. Io sono rimasto solo a metà. Fra, fra. Fra, fra, freno. Ah, u, o, o, ho sentito... Oh, mi sto perdendo. Oh, cazzo! E mi sono perso! Madonna, Fra! Mamma mia. Paura secchi, però. Come lo giuca. Best Jukevards. Fra HD. Mi manca solo la musichetta elettronica. Metti su... Metti arci, veramente. Giulia, droppa immediatamente le munizioni... Ci non vuole essere stronzi, Giulia. Non vuole essere stronzi, lo dico. Sto mettendo le munizioni di fuoco incendiari a terra. Enjoy. Poi non le volete, ma fu un cuoce. Veramente. Ah, swaggerino! Ma tu hai visto cosa c'è qua, Andre, vero? Cosa c'è, sto cazzo? Sta anche! D'accordo, ragazzi. Ah, no, questo fa caccare come... Wow, ma è sto cazzo! Wow, ma c'è addirittura un altro! Maia, Andre mi sta schiaffeggiando. Andre mi stia trovando. Aiuto! Ma che cosa... Ma vaffanculo, sti zombie! Ma che cacchio! Lasciatemi stare! Qua? Maia, sì. Ah! Un boomer mi ha sputacchiato in faccia. Che schifo. Che schifo. Mi ha sputato tutti in faccia. Mi ha schizzato tutti in faccia il boomer. Eh, sì. Eh, arrivano altri... La vogliamo buttare... La vogliamo buttare così, allora, ok. Dove cazzo è sto Hunter? Ecco, appunto, è su di me, ragazzo. Oh, ma poverino... Di puttana... Ah, che minchia, che laggata! No, aiuto! Io sto laggando veramente in brutto modo. Doviamo salire? Boh. Saliamo? Finiamo la puntata proprio prima, mi raffa matta. Per esempio? Sì, sì. Vedi, vedi come ci si sente. Quando tu dissi le cose non ti caga. Raga, penso sia un'orda infinita, comunque. Ma non so dove bisogna andare. Qui, Paolo! Vi stiamo chiamando da quattro ore! Ah! Aiuto! I zombie non mi lasciano pa' fare. Mi lasci, signor zombie! Lei è inopportuno! Il signor zombie è il signor Giampietro zombie! Oh, sì! Che è caduto in acqua tra l'altro! Perché stronzo? Oh, grazie! Oh, grazie! Oh, grazie! Oh, che... Ma ha finito pure i colpi! Ah, guarda, c'è uno smoker! Il signor Marco Maria zombie! Lol! Ti ha eliminato duro prima che te ne andassi, ti ha dato il bacio di addio come sul Titanic! Stai, vuoi fumare? No, grazie! Aspetta che faccio... Tra l'oltre c'è la miccia e c'è l'innesco con la batteria... Prenditi queste cure! Prima sta adrenalina! So, adrenalina! Molto celosina! Io non ho un'arma vera, sappiatelo! St'ambientazione sembra quella dell'espansione di Fallout! Non importa a nessuno quello che sembra! Questo è perché tu non giochi ai giochi seri! Tu giochi a Minecraft! Oh, scemo! Cazzo offendi, Minecraft! Fai un let's play di Fallout a palle dure! Senza l'armio laser! Vai, vai! Ma perché? Solo con lo shish kabob e baffa! Perché dovrei? Perché solo gli uomini fanno l'epocalisse! No, ragazzi! Siete i migliori! I migliori! È una corda! Indovina un po' cosa c'è qua! No, Fran, ti prego! Tu non avrai mica una Molotov! Ma proprio no! Tu con le Molotove forse è anche zoppicante! No, no, che mozza! Ditemi che non ho preso la pancia granata! L'ho preso io la pancia granata! Guarda qua! Eh, immaginiamo! Oh oh oh! Vabbè, io le munizioni incendiari invece se le volete! Sto buttando le munizioni incendiari a terra! Quale le tue munizioni incendiari? Che cosa facciamo? Ti ci bisci! Ti bisci! Ti bisci! Ti bisci! Ti bisci! Aiia! Amicici perché sei tutti lì dietro? Stiamo proseguendo Della nostra magica avventura di Natale. Il defibrillatore è qua, comunque. L'ho preso io. Ma io ricordiamoci. L'ho preso io? Minchia, la smetti di spingermi giù, Giulia, porca dana. Ma chi ti caga? Io guardavo per i cazzi miei. Ecco, c'è ventissima. Spara lì dove ho messo la spuzza a chiocchiera. La spuzza a chi? La spuzza a chiocchiera, la bombetta spuzza a chiocchiera. La spuzza a chiocchiera. Oh, ma qua c'è il fucilidato. C'è KIDO! Boom! Aiuto, aia. Grazie. Grazie per la fucilidata in faccia. Fra, è stato aiutato. Oh, ma lì c'è la witch. No, era la witch. Mamma mia, che b... Oh, ma qua dietro c'è stato un zecchio e mezzo di zombie. Cazzo. Oh. Ok. A quanto dobbiamo andare? Oh. Adesso sto seguendo Adner, mi fido dell'altra vita. Siamo sicuri, dobbiamo andare in casa? No. Ma cosa c'è di sicuro nella vita, oltre la morte e le tasse? Nulla. Le tasse neanche tanto. Non è che tutti le prendiamo. Aiuto! Aia! No, no, no. È un charge and charge, un charge and charge. Su Rochelle, povera Rochelle. Ah no, su di te. Su di me? Povera Rochelle. Su di me, su di te, tra l'altro. Su di me, su di te. Mi servirebbe una curetta. Vieni, dove sei? Sono qua. Ah, guarda, ma c'è la passerella qua. C'è la passerona. Una passerotta. Giulia, ma di che cazzo mi hai curato? Ah, ho curato me stesso. Che stronza. Ti ho dato le pillole, ti ho dato le pillole. Madonna. Cioè, dopo quella di prima, cioè, veramente... Io non ho più parole per poterti offendere. È una talpa nel... nel gruppo. Non c'è una wannabe zombie. Esatto. Ah, ma è una stanza sicura. Stanza figura, lasciamo fuori Giulia, vaffa. Già, no, ma troppo semplice, ragazzi. Sì, è stato easy. Cioè, easy roll. Cioè, easy report. È stato reportato. Sì. Eh, vabbè, allora, la puntata è finita. Un sacco di noia in questi episodi. Perché è troppo facile. E quindi, vabbè... È sempre colpa di Giulia, se è troppo facile. Se è troppo facile, se si muore. Ah, perché è stato un po' forte qui, giustamente. È sempre colpa di Giulia, vaffanculo. Giulia, smettila, ragazzi. Non è stata staffa. Non è un po' di morning, niente. Tra l'altro. Vabbè, allora ciao. Vabbè, allora non ci abbasta. Ciao. Ciao. Ciao.